Osi stare fuori, osi entrare, quanto puoi perdere, quanto puoi guadagnare, e se entri gireresti a sinistra o a destra, o a destra e tre quarti, forse non così lesta. Ora, potresti confonderti al punto da iniziare una volata, arrotta di collo per una strada dirupata, e sfacchinerai per miglia attraverso una strana area disabitata, dirigendoti temo verso una zona desolata, quella dell'attesa incondizionata, per gente che attende, attende che un treno parta, o che un autobus arrivi, o che un aereo parta, o che la posta arrivi, o che la pioggia smetta, o che il telefono squilli, o che la neve cada in fretta, in attesa di una frase ditta, o di un filo di lustrini, o di un paio di pantaloni, o di una parrucca con i rizzulini, o di altre occasioni. Che sta facendo? Ho sentito che potrebbe essere d'aiuto. Chi gliel'ha detto? Quello che le ho sparato.